Il Presidente della Regione ha deciso di auto sospendersi e dunque tutti i poteri passano al Vice Presidente della Regione. Per quanto mi riguarda, ciò che ho dichiarato nelle scorse ore rimane la mia dichiarazione. So io cos'ho qui. Avanti le altre! Quanto è successo? È un atto di gravità inaudita e dimostra che nel nostro paese la lotta politica ha raggiunto livelli di barbari intollerabili. Brava, brava! Ma quale si vede? La negrezza? Sì, ma tu devi stare attento con queste. Perché? Mi auguro che si arrivi al più presto al chiarimento di tutti gli elementi di questa vicenda. Ma che sei un uomo tu? Sì. Perché si fa passare la donna? Non ho voluto fare soldato. Come me? E da dove vengo? È un po' complicato. Che so, clandestino? Oh, non è che siano proprio clandestine, ma diciamo che ci sono molte complicazioni. Ah? Solo un po' irretti. Ho capito, è meglio, è meglio che ci siano complicazioni. Così non protesto. Vedete cosa sta a sveglia? Voi piace l'Italia? No! Anche voi piacerebbe. Anche io piace a me. Grazie. Da questo momento, quindi, di questa vicenda parleranno esclusivamente i miei legami. Io devo dire, ragazzi, i miei complimenti, ecco perché siamo tutti insieme.